Sono Gianluca Marziani e in questi dieci minuti voglio raccontarvi una storia molto particolare che è una storia legata a un oggetto fisico ovvero il muro e all'interno di questo muro che abbiamo allestito a Castello di Rivoli all'interno del grande progetto Espressioni con frazioni, ho cercato sui metri lineari di questa parete frontale che abbiamo intitolato Wall Street senza nessuna dimensione finanziaria, non volevamo raccontarvi la storia della finanza a New York ma raccontarvi un qualcosa che invece è nato in maniera sistemica e evidente nella città di New York nella metà degli anni 70 più o meno con una crescita progressiva che ha preso forma dal 77-78 per poi esplodere nella prima metà degli anni 80 che è il fenomeno dell'arte urbana. Spesso questo fenomeno è stato raccontato in maniera didascalica, è stato raccontato secondo le accezioni più superficiali che sono quelle del graffitismo, delle tag dell'occupazione di suolo pubblico, della trasformazione dei vagoni e dei muri stradali ma quello che invece Wall Street all'interno del progetto più ampio e della visuale curatorialmente ampia di Castello di Rivoli è proprio un allineamento a dei processi storiografici e curatoriali in cui il muro diventa il nostro oggetto display centrale sul quale leggere le traiettorie dell'arte urbana non più come un contenuto di significati banalmente esplosivi di natura pop e superficiali ma come un vero e proprio linguaggio e quindi linguaggio che utilizza al suo interno svariati linguaggi dallo stencil, dalla pittura, dallo spray al disegno, all'incisione, all'utilizzo di materiali reali, al riciclo di oggetti di varia natura urbana e bene tutto questo per sintetizzarlo all'interno di questo foglio metropolitano, all'interno di questa pagina bianca che viene ogni volta riempita con contenuti nuovi e quindi darvi di questo grande processo di interpretazione della società e dell'umano all'interno della società un'accezione che sia la rispondenza di complessità che l'arte urbana porta con sé e quindi l'apertura di una riflessione diversa su questi mondi che non si limitano alle diciamo stelle del firmamento che tutti noi conosciamo come ormai maestri acquisiti da Catering a Jean-Michel Basquiat da Obey fino all'artista più vilerante di questo tempo che è Banksy ma attraversare una serie di traiettorie attraversare una serie di percorsi che si intrecciano in maniera libera talvolta casuale quasi sempre senza nessuna filologia connettiva tra le parti ma proprio perché l'arte urbana si esprime sempre all'interno di un contesto geografico all'interno di una realtà politica e sociale è l'espressione spesso di un malessere spesso è un sismografo che certifica la densità del problema sociale la densità della criticità e del sisma in corso ma che altre volte è anche oggetto di proposizione di nuovi mondi di nuove visioni sul mondo e quindi un linguaggio che dobbiamo leggere nella sua complessità come è il linguaggio dell'arte visiva l'arte urbana è perfettamente integrata e allineata alle dinamiche dell'arte visiva non esistono artisti e artisti urbani esistono artisti che si esprimono all'interno del contesto urbano utilizzando determinati linguaggi che poi vanno in cortocircuito connessione con quelli che sono i linguaggi tipici dell'arte la pittura il disegno la scultura l'installazione entrano oggi sempre di più all'interno delle dinamiche urbane che non si limitano a quella che la dimensione storica del graffitismo della tag di quello che abbiamo conosciuto e scoperto con marta cooper con le fotografie di new york degli anni 70 quando quella città stava diventando il centro di un nuovo modo di esprimersi poi le laragne metropolitane di catering che disegnava con i gestetti bianchi sui fogli delle pubblicità scadute poi jean michel baschià che firmava le sue poesie samo e che cambiava il profilo della narrazione scritta all'interno del muro creando un contesto dialettico tra spettatore e oggetto scritto creando un qualcosa che avrebbe aperto un canale di informazione e di scambio con il pubblico perché l'arte urbana ha proprio bisogno più di ogni altra forma di espressione visiva del pubblico del contesto di una dinamica in movimento minerale continua dove tutto si trasforma e dove nulla rimane statico fino a se stesso l'arte urbana è un'arte che si consuma spesso più delle altre forme d'arte a parte quando è diventata ovviamente forma del quadro quindi il percorso di baschià o catering poi ha certificato un passaggio da un contesto a un altro mantenendo quel profilo di scambio quel ponte connettivo sempre tra città e opera ma spesso si è espressa anche in termini anomali noi abbiamo casi come quelli dell'internazionale situazionista di artisti come Pino Gallizio abbiamo casi come quelli del decollage di Mimmo Rotella abbiamo casi come l'arte degli anni 60 a Roma tra figure come Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa, Renato Mambor ma anche altri artisti che hanno usato la carta hanno usato i sistemi di riciclo urbano hanno citato la città e usato la città all'interno del proprio lavoro mescolando anche elementi come lo stencil Schifano ha usato spesso lo stencil in maniera pittorica quindi dando proprio la misura di quanto la città e il linguaggio urbano siano perfettamente connessi a un percorso che soprattutto dagli anni 50 ad oggi ha trasformato le città e il loro modo di esprimere la creatività di registrarla di sublimarla e di creare densità visiva nella mostra vi racconto assieme a Stefano Antonelli che mi ha supportato nella curatela di questo progetto scenari come quello messicano come quello cileno scenari come quello dell'Iran di oggi dove l'antagonismo urbano diventa una forma di reazione politica militante necessaria a rischio della vita così come è avvenuto in contesti centro-sud americani e come continua ad avvenire in molti posti del mondo guardiamo quello che accade in Nigeria quello che accade in Senegal in paesi più o meno complessi nella loro vitalità politica ma che dimostrano quanto oggi il linguaggio espressivo metropolitano sia un atto politico un atto di dissenso un atto di destrutturazione dei temi che spesso l'arte museale canonica non riesce ad esprimere con medesima forza Wall Street vi racconta questo con un display che è principalmente un display di scrittura di testi che il pubblico può leggere sul muro ma che può scaricare attraverso un QR code e poi leggerseli e stamparseli comodamente è un progetto che non lavora sulla contemplazione dell'opera a parte pochissime tracce Pino Gallizio Gastone Novelli Mimmo Rotella una serie di video che potrete vedere sul muro ma anche questi scaricarveli tramite QR code è un muro che attraversa il linguaggio urbano con il linguaggio dell'analisi urbana vuole riallineare il percorso del muro come elemento strutturale fondativo della della lingua urbana per far sì che questo muro rientri finalmente in connessione dialogica con quelle che sono state le avanguardie del novecento perché l'arte urbana ha toccato le avanguardie le avanguardie sono sfociate spesso nell'ambito urbano quindi in realtà è una mostra che non vi vuole definire un linguaggio come una monovisione su quelli che sono gli aspetti più banalmente superficiali legati al graffitismo e alle tag come una delle molte espressioni ma ridare proprio la natura di questo sistema complesso che la mostra Castello di Rivoli esprime che esprimerà poi con un libro che sto elaborando insieme a Stefano Antonelli e con una visione del mondo urban che stiamo spostando sulla fondazione di un nuovo museo in Umbria quindi tutto questo per ridarvi e offrirvi una serie di chiavi una serie di chiavi di interpretazione e soprattutto una serie di chiari per aprire percorsi in cui andare a rivedervi figure come quelle di Gianfranco Baruchello figure che sono state determinanti nelle avanguardie ma che hanno utilizzato pensiamo a Ugo Lapietra quello che ha fatto a Milano pensiamo ripeto a quello che è stato fatto negli anni 60 a Roma pensiamo a quello che è stato fatto a Napoli tra gli anni 60 e 70 pensiamo a quanto la città è stata il contenuto e il contenitore questo binomio contenuto contenitore è un po' una delle chiari per comprendere il valore urbano di certe espressioni linguistiche Wall Street che è un format antagonista ma estremamente dettagliato e minuzioso e quindi con una sua centralità statica per vedere i fenomeni e rileggerli finalmente in maniera non ideologica non esclusiva ma creando quella definitiva e fondamentale inclusività di certi fenomeni dell'arte all'interno di un percorso omogeneo che è il percorso delle avanguardie del novecento e questo perché vorremmo che finalmente non si parlasse di street artist o di urban artist se non per definire dei codici all'interno del sistema ma si parlasse di arte a tutti gli effetti i muri di blu sono arte contemporanea che si interfaccia perfettamente con le dinamiche della land art che entra in una dimensione di neo urbanesimo della land art per cui oggi i processi naturali della land art si possono anche spostare all'interno delle grandi metropoli e quindi capire come fenomeni quali Banksy oggi o Shepard Fairey o Coase o Invader o gli Osgemeos non sono più fenomeni marginali e generazionali che determinano grandi dinamismi di merchandising e basta sono fenomeni ricchi di contenuti e sono fenomeni ricchi di qualità concettuale all'interno di una espressività esplosiva che vuole toccare il pubblico nella fase più retinica ma vuole anche produrre conseguenze in qualche modo mineralizzarsi all'interno dello sguardo e diventare produttore di contenuti ulteriori Wall Street è un produttore di contenuti ulteriori per questo ripeto è una mostra non mostra ma è davvero una sorta di catalogo di grande formato proposto in termini di muro è un un disvelamento di quelle che sono delle mappe delle mappe di senso e di significato che si esplicano all'interno della radiografia stilistica del muro e quindi il muro ospita si opere ma ospita testi che non sono più di da scalie ma che diventano essi stessi parte dell'opera e quindi questo muro potete immaginarlo come il catalogo stesso della mostra messo in mostra ma anche come l'idea di prologo di un libro che diventa a sua volta muro per poi ritrasformarsi in qualcosa d'altro è un processo apparentemente contorto che in realtà vuole proprio sciogliere i nodi del pubblico davanti a delle letture spesso banali che facciamo di artisti fondativi oggi Banksy è un artista in un certo senso fondativo di un nuovo approccio che ha con sé la comunicazione ma che fa della comunicazione un processo di sublimazione di quei contenuti e li rende a tutti gli effetti elementi d'arte contemporanea questo crediamo sia io che stefano antonelli sia fondamentale per mettersi davanti a una lettura del novecento anche in chiave urbana e quindi capire che per leggere l'arte urbana servono strumenti di estrema vicinanza a quelli che normalmente utilizziamo nei nostri viaggi museali e che allo stesso tempo ci permetteranno di aggiungere sottrarre modificare rivedere a nostro modo la città e quello che ci piace e che ci stimola delle città in un modo per cui anche quello che vediamo fuori partecipa a una sorta di musealizzazione complessa erizomatica dell'espressione creativa contemporanea il museo oggi non è più soltanto lo spazio fisico il museo si sta distribuendo in forma liquida e quindi coglie istanze connettive in come se ci fossero dei telomeri che portano le sale del museo verso i muri della città quindi ecco che oggetti come torma arancia il progetto che con stefan tornelli abbiamo curato in un quartiere di roma intitolandolo big city life o quello che abbiamo fatto a san paolo a bari con un progetto in cui due progetti in cui abbiamo trasformato completamente le periferie in luoghi di rigenerazione urbana e umana ecco che tutto questo ci permette di parlare di nuovi processi museali anche all'interno del mondo della street art questo è wall street all'interno di espressioni confrazioni questa è una piccola guida per farvi muovere meglio all'interno di un sistema di immagini che ci piace e ci dà grande soddisfazione